ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video in questo nuovo in cucina con noi oggi ad aiutarmi c'è giorgia che arrabbiata e prepariamo proviamo questo kit completo di tiramisù per tiramisù della marca tipico che mi è arrivato con la degusta box c'è scritto aggiungi solo la panna pronto in 10 minuti in cinque semplici passaggi il kit contiene 8 savoiardi di sardegna il preparato per crema al tiramisù caffè in polvere solubile cacao amaro in polvere e una comoda vaschetta adesso lo andiamo ad aprire tiriamo fuori tutto prendiamo l'attrezzatura che ci serve e poi iniziamo a preparare allora dietro come potete vedere ci sono scritti vari passaggi che che dobbiamo fare per prima cosa dice amalgamate in una ciotola il preparato per tiramisù la bustina più grande che è questa con 400 ml di panna per dolci poi con una frusta elettrica miscelate per circa un minuto fino ad ottenere una crema densa e voluminosa andiamo allora Allora, andiamo avanti e dice, sciogliete il caffè solubile in 200 ml di acqua all'interno di un contenitore da circa 20 cm e inzuppate un savoiardone per volta, 2 secondi circa per ciascun lato. Aiutandovi con una spatola, stendete un po' di crema sul fondo della vaschetta e posizionate i primi 4 savoiardi inzuppati, vabbè, savoiardoni inzuppati. Successivamente coprite abbondantemente con la crema, quindi adesso andiamo a fare questi passaggi. Ripetete l'operazione posizionando sopra la crema gli altri 4 savoiardoni inzuppati, ricoprite con la crema rimasta e aggiustate con una spatola. Adesso lo lasciamo in frigo per 5-6 ore e poi lo spargiamo con il cacao amaro. Ripetete l'operazione posizionando sopra la crema rimasta e aggiustate con la crema rimasta e aggiustate con la crema rimasta. Ripetete l'operazione posizionando sopra la crema rimasta e aggiustate con la crema rimasta. Come avete visto noi abbiamo decorato con lo sciroppo al cioccolato anziché con il cacao amaro, ma ognuno può decorare come preferisce. I bambini l'hanno apprezzato molto, hanno detto che era molto buono, l'unica cosa il caffè del savoiardo era amaro. In effetti sulla confezione non c'è scritto di zuccherarlo, ma se a voi non piacciono, ecco un cucchiaino di zucchero aggiungetelo. Io spero che questa ricetta, questa recensione di questo kit completo per tirano su vi sia piaciuta, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!